L'intelligenza del corpo. Luisa Marnati, beh sì, qui la presentazione non rende neanche giustizia a tutto quello che Luisa è. Comunque, Luisa Marnati, psicologo, psicoterapeuta, psicologia clinica e psicologia delle emergenze, che è un punto molto molto interessante. Albu Psicologi della Lombardia, socio fondatore e presidente APTEBA, ecco questo acronimo contiene Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale, Presidente Sezione Ligura dell'Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, Vicepresidente SIPEM, cioè Società Italiana Psicologi e Emergenza, Sezione Liguria, socio amico aiutante aggregato gruppo alpini Rapallo, complimenti, membro del consiglio direttivo Lions Club Rapallo, host, membro del consiglio direttivo Amici dei Sentieri, Acco Invidia, socio istituto italiano di bioetica, Sezione Liguria. Ha pubblicato per Xeni Edizioni Il Rilassamento, 1926, Il Rilassamento Creativo, 1997, Vincere il Panico, 1998, e con Andrea Schneller Meditazioni nella Natura. Ah, interessante per me anche. Manuale di Pet Therapy 2011, autore del saggio La morte e gli animali, quali emozioni? In emotività animali, ricerche, disciplina, confronto. Lei di Edizioni Milano 2013. Questo mi interessa in modo particolare perché è un tema su cui l'Istituto Italiano di Bioetica sta molto lavorando, eh? Quindi ti ringrazierei poi se me lo facessi avere o me lo procuro. Poi, la vita emotiva degli animali umani e non umani, il nuovo Natura Animali per una bioetica della complessità, il testo che raccoglie là gli atti dei convegni che abbiamo fatto a Santa Margherita, le fiavole di Quando i merli erano bianchi, Erge Edizioni del 21, Animali e Salute, Pet Therapy, interventi assistiti con gli animali in bioetica e biopolitica nell'orizzonte della complessità, Genova University Press, è quello che è l'ultimo libro che abbiamo fatto, che ha raccolto, come sapete, gli atti del, cioè che ha parlato, in sostanza, della storia del festival. Allora, il titolo della tua conferenza è l'intelligenza del corpo e c'è un incipit, ogni lungo viaggio inizia con un primo passo. Lao Tse, a te la parola, grazie. Io allora faccio una bella cosa, mi, mi, ecco, mi disegno... Mi vedete? Mi sentite? Sì, vediamo e sentiamo. Ok, perfetto, perché io adesso vedo... No, no, ti sentiamo. Perfetto. Allora, parlavamo prima di quella bellissima poesia di Enzo Baldini, sui 75 anni. Dell'intelligenza artificiale. Dell'intelligenza, ecco, ma senza intelligenza artificiale la ritroveremo poi alla fine del mio intervento e poi capirai perché. Ok, allora, ogni lungo viaggio inizia con un primo passo. Questo è il cammino verso Santiago di Compostela, che io ho fatto tutto, ma non tutto, a piedi una prima volta, poi ho fatto il cammino del nord e poi il tratto pirenaico, che è una cosa bellissima. Ma veniamo al cammino del nostro corpo. Il nostro corpo è in continuo sviluppo a partire dal patrimonio genetico ricevuto e l'evoluzione somatica con tutte le peculiarità, ecco, adesso lo vedo, che ne costituiscono l'unicità. La dimensione psicobiologica trae origine e fondamento dagli atteggiamenti che derivano a tutti noi esseri umani dal trovarci inseriti fin dal grembo materno e con la nascita in un certo tipo di contesto familiare, culturale e sociale. Il nostro corpo è una struttura aperta e costantemente inserita in un contesto relazionale e inter-relazionale. È un luogo di incontro tra innato ed acquisito, dove tutto è in continuo di venire nel contesto di uno sviluppo che abbraccia l'intero arco della vita. Al momento della nascita il piccino neonato si presenta, umano ovviamente, come un essere incapace di sopravvivere soprattutto senza una relazione, ma si propone anche come un plastico esempio di esperienza dove tutto può essere realizzato. Ma tornando all'intelligenza, se ci chiediamo quale sia la parte del nostro corpo a cui dobbiamo l'intelligenza, e con probabilità ciascuno di noi indicherà la testa. Tuttavia, il ruolo centrale del nostro corpo nell'acquisizione della conoscenza, nelle modalità con cui apprendiamo, ci porta ad imparare ad ascoltare i messaggi che il nostro corpo ci invia e soprattutto a decodificarli. E la cosa più importante è soprattutto avere fiducia nelle nostre capacità. È il passaggio dal cartesiano cogito ergo sum al sum ergo cogita. Ognuno di noi possiede più tipi di intelligenze, definendo l'intelligenza come la capacità di comprendere il mondo in cui viviamo e di risolvere problemi ambientali, sociali e culturali che ci vengono posti in ogni momento della nostra esistenza. Howard Gardner, neuropsicologo statunitense, nel suo libro Frames of Mind, pubblicato nel 1983, afferma che non esiste un'unica intelligenza, ma diverse forme di essa, ognuna indipendente dalle altre, e ogni essere umano possiede almeno otto abilità intellettive, conosciute anche come intelligenze multiple. E qui abbiamo la logico-matematica, la verbale-linguistica, la musicale, corporeo-cinestetica, spaziale-visiva, interpersonale, intrapersonale e naturalistica. Secondo Gardner, ogni persona è caratterizzata da un insieme di queste abilità, e per noi è importante individuarle in quanto acquisire la consapevolezza delle proprie capacità e del tipo di intelligenza posseduta permette di sviluppare i nostri punti di forza in modo da raggiungere l'obiettivo del benessere personale. Non sono solo le scelte razionali e consapevoli a influenzare la nostra vita, ma anche e soprattutto i messaggi inconsapevoli che partono da noi ma che la gente coglie. Il corpo funziona come un ponte tra la nostra parte inconsapevole e quella consapevole. L'intelligenza del corpo sta nel mescolarsi dei sensi, nell'insieme delle informazioni che arrivano attraverso tutti i sensi del nostro corpo, aggiungendo anche equilibrio e orientamento. Il corpo è una sorgente di energia che riceve e trasmette informazioni di continuo a livello conscio ed inconscio. Le applicazioni più comuni dell'intelligenza del corpo sono ascoltare, capire e dare segnali somatici, non fraintendibili. Ma vi sono infiniti modi in cui il corpo acquisisce, conserva e utilizza le informazioni, come ad esempio andare in bicicletta o guidare l'auto. Quando noi siamo andati a scuola guida abbiamo fatto proprio scuola per imparare, ma adesso quando saliamo in macchina è tutto automatico, non è che stiamo a pensare dove è il freno, dove è la frizione, eccetera. Una prova visibile di trasmissione inconscia è quella proprio del linguaggio del corpo, ad esempio i gesti delle mani, mentre parliamo, come ci abbracciamo, come ci muoviamo, sono informazioni inconsce che quando vengono decodificate aprono la strada a nuove conversazioni, altrimenti invisibili. Però nella vita di ciascuno di noi accadono degli eventi che mettono alla prova la nostra resilienza, la capacità di far di fronte. A volte si tratta di situazioni che riusciamo a superare, altre volte gli impedimenti rappresentano un ostacolo che richiede tutte le nostre energie fisiche e mentali per essere affrontato e superato. Altre volte sentiamo di non riuscire a farcela e abbiamo bisogno di aiuto. Nella mia attività professionale di psicologa e psicoterapeutica, sia in ambito clinico che soprattutto in emergenza, mi sono dedicata ad un approccio in grado di rispondere ai bisogni delle persone. guidata dalla consapevolezza che il disagio e la sofferenza possono presentarsi nella vita di ciascuno di noi in modi diversi e nei momenti più inaspettati. A volte scegliere di intraprendere un percorso psicoterapeutico può essere d'aiuto, soprattutto quando riteniamo che il nostro percorso di vita sia sbarrato da ostacoli molto grandi. Le esperienze vissute dalla vita intrauterina alla prima infanzia lasciano un retaggio di apprendimento verbale e non verbale che influenza lo sviluppo psicocorporeo e influenza le relazioni, gli schemi cognitivi, la capacità di vivere le proprie emozioni. Il corpo si fa portatore dell'eredità del trauma a cui si aggiungono tutte le varie esperienze traumatiche che abbiamo vissuto nell'arco della nostra vita e tutto questo concorre a mantenerci bloccati nel passato con effetti fisici e psicologici sulla mente e sul corpo. Che cosa succede? Possiamo provare ansia, difficoltà di concentrazione a causa di paura, reazioni emotive intense e disturbati, lo stress post-traumatico soprattutto dovuti magari a una situazione di abuso, a un'aggressione, a un incidente. Possiamo avere dei flashback e degli incubi ma anche in generale una difficoltà a goderci la vita, a sentire, a percepire la speranza, a sperimentare il piacere. Possiamo anche avere la difficoltà a mantenere un lavoro, un legame familiare, una amicizia e altre relazioni. Per la paura di morire ci costringiamo a non vivere. E tutto questo a volte accade in un modo improvviso e violento, tanto da lasciarci impreparati a gestire il dolore. Altre volte accade in modo meno travolgente ma si tratta di una presenza costante e continua che ci accompagna in ogni istante e in tutte le attività che svolgiamo. Altre volte ancora può presentarsi come un disorientamento nell'affrontare scelte difficili della propria vita. Ma in qualsiasi modo si presentino le difficoltà e gli ostacoli nel percorso della nostra vita generano dolore e sofferenza che non sempre siamo in grado di gestire da soli. Il percorso psicoterapeutico o anche solo psicologico può essere un'occasione per individuare le memorie connesse al dolore, ai conflitti irrisolti e trattare le esperienze traumatiche che sono trattenute nel corpo per valutare le proprie risorse e trasformare le emozioni dolorose. L'intelligenza del corpo permette di sentire e gestire al meglio il nostro corpo i modi in cui esso opera e comunica esprimendo sentimenti. Il proprio modo di essere e di rapportarsi all'ambiente e nelle relazioni interpersonali è la connessione tra l'intelligenza emotiva e l'intelligenza del corpo. Nella relazione psicoterapeutica il corpo è il protagonista è un elemento di legame ma al tempo stesso di rottura che ci coinvolge commuove sorprende rendendoci compartecipe dei momenti della terapia che si intersecano si intrecciano oscillano in perpetuo movimento tra l'innato genetico e l'acquisito intersoggettivo tra piacere e dolore vulnerabilità e resistenze desiderio e conflitti bisogno d'affetto angoscia di separazione e perdita amore e odio vita e morte protagonista e spettatore al tempo stesso del mistero della vita affettiva il corpo in cui io vivo la consapevolezza del mio corpo nelle percezioni e sensazioni che da esso derivano riveste connotazioni differenti e mi indica il cammino terapeutico da percorrere la possibilità di accedere a un linguaggio segreto dove perdita sconforto impulsività senso di vuoto sono manifestazione della sofferenza del disagio e dei disturbi e l'essere attenta disponibile al contatto affettivo e mettermi in ascolto delle domande delle richieste spesso provenienti da chi non è in grado di gestire i propri affetti cercando di stabilire un rapporto tra i bisogni fondamentali le emozioni e le modalità di comunicazione relazionale è una struttura che lega l'emozione al linguaggio al corpo come supporto delle pulsioni e degli istinti tra mente e soma biologico molto spesso il corpo si rivela come unico mediatore con il corpo e la mente dell'altro un corpo svuotato spezzato disperato che abbiamo paura di affrontare e da cui vogliamo sfuggire per non affrontarne la realtà le sfide ma anche le sorprese il corpo è anche se non soprattutto sorgente di energia e di vita occorre esserne consapevoli e presenti adesso nel silenzio padre Andrea Schneller frate Cappuccino nella sua la via del silenzio scrive la presenza al corpo educa di fatto la mente alla tranquillità e alla presenza consapevole attraverso l'amicizia col corpo e il vivo contatto con le sue sensazioni quando siamo presenti al corpo e alle sue sensazioni abitiamo noi stessi siamo consapevoli di noi stessi qui e ora questo abitare nel presente del proprio corpo diventa silenzio raccoglimento e uscire dalle mille fonti di confusione in cui siamo abitualmente immersi per accogliere interamente l'attenzione della mente su un oggetto soltanto il nostro corpo e rimanere fedelmente con esso questo è un percorso meditativo l'intelligenza del corpo è capace di assolvere un numero quasi infinito di compiti se sappiamo utilizzarla lavorando in sintonia con essa riusciamo a prevenire tensioni disturbi paure malattie ma la lotta più dura che il corpo deve affrontare viene da noi stessi quando ostacoliamo i suoi impulsi naturali le sue funzioni biologiche interferiamo sconvolgendo i ritmi naturali ogni volta che escludiamo intuito e consapevolezza attribuendo eccessiva importanza alla razionalità noi ci separiamo dal corpo e diventiamo incapaci di intuirne le reali esigenze e richieste e da questo atteggiamento originano i punti vulnerabili stress difficoltà nella gestione dello stress sindrome psicosomatiche sintomatologie ansiose o stati depressivi attacchi di panico difficoltà nelle relazioni ma soprattutto campanelli d'allarme disturbi del sonno e disturbi alimentari spesso arriviamo addirittura a odiare il corpo detestiamo l'aspetto fisico grasso magro alto basso disapproviamo come si muove nell'ambiente lo critichiamo anziché vederne i lati positivi temiamo e proviamo paura dei suoi impulsi delle pulsioni della sua sessualità distrattiamo l'organismo con alcol tabacco droghe farmaci che giorno dopo giorno ci avvelenano e danneggiano irreparabilmente questo odono meraviglioso che è il corpo e che dire del rapporto corpo cibo la nostra occupazione principale sembra essere quella di nutrire il corpo o con troppo cibo o con troppo poco mangiamo ciò che ci capita ingurgitiamo il tutto irregolarmente senza orari senza tener conto dei ritmi e delle giuste esigenze fisiche e psicologiche del nostro organismo che richiede regolarità freschezza e dosaggio dedicarsi a un esercizio fisico anche modesto ma quotidiano favorisce il benessere del corpo e della mente può anche essere sufficiente lasciare a casa l'auto farsi una bella camminata scendere dall'autobus un paio di fermate prima salire le scale a piedi e sono tutte attività che migliorano la funzionalità dell'organismo e ci distolgono dalla vita sedentaria cui ormai ci siamo rassegnati è importante sentirci a nostro agio e iniziare a compiere alcuni piccoli passi come dicevamo all'inizio un primo passo per cominciare a cambiare è interessarci e dedicarci al nostro corpo con amore puntando l'attenzione sui risultati positivi sui successi accettando anche il nostro corpo grasso con la pancia la statura sproporzionato così com'è ora e cominciamo a prenderci cura di lui e soprattutto di noi tutto funziona meglio c'è equilibrio e armonia un secondo passo è quello di porci in ascolto di noi stessi imparando a non confrontarci criticamente in modo negativo rispetto al corpo degli altri perché ci sarà sempre qualcuno che ci apparirà più bello più attraente più giovane di noi e il risultato è che ci sentiamo insoddisfatti di noi stessi e del nostro corpo il terzo passo consiste nel prenderci cura concretamente del corpo concedendoci alcuni momenti ogni giorno tutti per noi per fare un pediluvio in acqua calda e profumata e mentre siamo fermi massaggiamo le mani con un olio essenziale o con una crema e al termine massaggiamo anche i nostri piedi oppure goderci un bagno speciale rilassante divertente traboccante di schiuma profumata in un'atmosfera soft piacevole con anche magari una musica preferita in soffrofondo oppure cantare ballare con o senza musica muoverci o semplicemente stirarci in un movimento spontaneo che ci porta a conoscere il ritmo del nostro corpo anche farci le boccacce davanti allo specchio non solo previene le rughe ma ci distende perché muoverci in ogni modo è amare la vita ma soprattutto è darci un alto quando sentiamo le prime avvisaglie avvisaglie della stanchezza spesso sono sufficienti 5-10 minuti anche nelle situazioni più disparate tra le urla dei bimbi colleghi d'ufficio gli impegni gli spostamenti per ritrovare tutta la carica energetica necessaria e sufficiente per ultimare in bellezza la nostra giornata e abbandonarci fiduciosi tra le braccia di Morfeo per un sonno veramente ristoratore questi sono alcuni spunti per stuzzicare la fantasia l'importante è dedicare attenzione al corpo per elaborare creativamente nuove modalità per un supporto nuovo e amorevole tutto l'organismo e con noi stessi può anche essere utile e costruirci delle frasi propositive da scrivere e tenere sempre con noi per la giornata la settimana il tempo che riteniamo necessario mi accetto pienamente vivo in armonia con il mio corpo rispetto il mio corpo ogni tensione lascia il mio corpo accetto le reazioni del mio corpo amo il mio corpo ascolto il mio corpo è quindi necessario imparare a percepire le sensazioni del nostro corpo ascoltarne i messaggi emozionali attraverso diverse modalità alcune le ho suggerite prima altre possono essere queste il cammino attraverso il corpo ci soffermiamo liberamente con il pensiero sulle zone del nostro corpo partendo possibilmente o dal capo o dai piedi in questo esercizio pratico non è essenziale il punto di partenza o l'ordine con cui portiamo la nostra attenzione alle singole parti l'importante è porsi in ascolto cioè cominciare a sentire a distinguere il tipo di messaggio che una precisa area ci sta inviando un secondo punto è l'attenzione presente al corpo e alle sue emozioni partendo dal corpo nella sua globalità focalizziamo l'attenzione su una zona precisa vivendo ogni sensazione senza respingerla ma accogliendo tutto ciò che il nostro corpo ci invia è importante un terzo punto imparare ad ascoltare il proprio corpo perché il nostro corpo ci invia dei messaggi che sono impalpabili sottili è un percorso meditativo e ascoltarli richiede un allenamento quotidiano e costante ma questo è l'inizio del cammino verso il nostro benessere perché quando siamo in grado di decifrare i segnali di disagio che il corpo ci invia riusciamo anche a elaborare le informazioni emotive che sono alla base dei disturbi psicosomatici prevenendo disturbi o malattie ancora più gravi il corpo viene percepito nella sua forma e posizione nel momento presente è il pensiero che si sposta prestando attenzione alle sensazioni ed emozioni che vanno di volta in volta emergendo se ogni tanto soprattutto all'inizio l'attenzione tende a dirigersi altrove con molta delicatezza cerchiamo di riportarla al corpo e alle sue sensazioni ai suoi punti di contatto sia che siamo seduti sulla sedia sul divano sulla poltrona o se siamo in piedi attenzione al respiro e poi riprendiamo il percorso di ascolto questo è l'inizio della consapevolezza e quando siamo in ascolto del corpo comunichiamo con un grande mistero è un mistero di vita e di intelligenza è l'intelligenza del corpo dalla quale la mente quando è silenziosa impara molte cose e diventa a se stessa più intelligente e saggia e questa saggezza è l'intelligenza cellulare del corpo Khalil Gibran poeta filosofo e pittore libanese scrive la tempesta è capace di distruggere i fiori ma è incapace di danneggiare i segni questa è la consolazione che il cielo consegna ai cuori dei grandi uomini che amano le grandi azioni e questa è la luce che fa sì che noi i figli del sapere camminiamo a testa alta sul sentiero della vita la vita è una scelta continua quotidiana per tutti nessuno escluso quando il dolore straripa quando la tempesta è in atto quando lo scoraggiamento supera i livelli di guardia quando qualcuno ci tradisce quando il cuore è gonfio di amarezza per tutti c'è un momento di abbandono di disperazione non ce la faccio più la tempesta è capace di distruggere i fiori la loro bellezza il loro profumo ma non è in grado di danneggiare i semi e allora si può ricominciare nel cuore dell'inverno germoglia la primavera la terra brulla spaccata dal gelo non è morta la neve il gelo la pioggia nutrono il sogno della rinascita perenne è credere nelle stagioni e la speranza genera amore e vita resilienza e speranza nel silenzio il nostro corpo venisce le ferite della mente e del cuore le guarisce e fa fiorire la speranza l'intelligenza del corpo dissolve le nebbie sconfigge le tenebre ci fa uscire dalle sabbie mobili dell'immobilismo seminando fiducia nella vita e infonde il coraggio e ci fa scoprire la bellezza alimenta i sogni e ci aiuta a realizzarli l'intelligenza del corpo è quella del seme seppellito germoglia si apre cresce porta vita rinnova e si fonde con il respiro dell'anima che è capace di vedere in tutto il suo stile la sua logica il suo amore il tutto è il seme ma occorre farsi zolla per accogliere attendere e far gemogliare la bellezza delle corolle e assaporare l'intensità del profumo il vento parla dolcemente in egual modo tanto alle querce giganti quanto al più piccolo filo d'erba è grande solo colui che trasforma la voce del vento in una canzone resa più dolce dal proprio sentimento sogna ragazzo sogna a Sanremo 20-24 nella serata delle cover il professor Roberto Vecchioni ha ammaliato il pubblico con la sua canzone cantata in duetto con il giovane Alfa sogna ragazzo sogna e la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere la vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare la vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un olivo convinto ancora di vederlo fiorire il messaggio della canzone di Vecchioni è quello di credere nella forza dei sogni e soprattutto l'invito a non arrendersi dinanzi agli ostacoli alle sofferenze ai dolori ai traumi che ci presenta la vita Vecchioni dà corpo all'interiorità al mondo segreto e inconoscibile che ci abita ed è racchiuso nella profondità del pensiero in un luogo molto più vasto della superficie in quel regno il regno del possibile che vive nell'inconscio la forza di volontà rappresenta il vero motore la forte temperatura emotiva di questo brano è data dal messaggio generazionale e dal dialogo interiore l'autore sta parlando alle generazioni che verranno ai ragazzi che diventeranno adulti ma nel contempo sta parlando anche a se stesso al giovane sognatore che è stato a ciascuno di noi un richiamo ai versi del poeta turco Nazim Himet uno dei maggiori autori del novecento un simbolismo che trova rappresentazione nell'associazione tra la vita e la pianta dell'olivo la vita non è uno scherzo prendila sul serio come fa lo scogliattolo ad esempio senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà prendila sul serio ma sul serio a tal punto che a 70 anni ad esempio pianterai degli olivi non perché restino i tuoi figli ma perché non crederai alla morte pur tenendola il poeta ci invita a piantare gli olivi non perché restino i nostri figli ma per allontanare la morte e credere nella vita ci invita a cogliere la bellezza della vita una bellezza intessuta di sentimenti della serietà dell'esistenza dell'importanza di saper donare la vita nella fiducia nel futuro che deve sempre animare i nostri giorni ci sono dei racconti dei romanzi delle poesie in cui dovremmo imbatterci da ragazzi quando tutte le strade dinanzi a noi si aprono e chiedono soltanto di essere percorse un'intensità dei sensi e del pensiero che l'intelligenza del corpo può cogliere e saziare la sete di esserci e che vede nell'immagine degli olivi piantati in tarda età non per i figli ma per se stessi espressione più era una canzone una poesia brevi versi che fanno parte della vita e che la rendono preziosa a qualunque età grazie è magnifica noi ti siamo posso dire oh Gabriella ci sei io speravo tanto che tu ci avessi ci avessi ascoltato e ci avessi raggiunto benvenuta ma io posso esprimere la mia profonda gratitudine penso a nome di tutti ma direi proprio a nome dell'istituto italiano di bioetica perché tu hai veramente saputo esprimere in una maniera mirabile e quello che è e che dovrebbe essere la bioetica intesa non in modo accademico ma nel senso proprio del di un benvivere con la bioetica deve aiutare ad un rapporto con se stessi e quindi con il proprio corpo che si è ispirato non al superficiale benessere e non al salutismo ma ad un rapporto profondo quello che tu hai delineato attraverso anche tutta una serie di percorsi che io devo dire alcuni me li sono segnati li trovo di grande importanza a me comunque è piaciuto molto questo partire da Cartesio nel rovesciarlo e cioè dal cogito ergo sum al sum ergo cogito che devo dire esprime esprime molto bene il sentimento che noi stiamo faticosamente recuperando ecco noi siamo in questa divisione cartesiana tra il res estense e l'eres cogitans tra i pensieri della materia che ha tanto condizionato la nostra cultura e che finalmente è superata tu ci indichi una strada e io ripeto è una strada fertilissima per noi io vorrei cogliere alcune alcune delle tue indicazioni ma sono molteplici poi vorrei naturalmente sentire poi i nostri amici il questo discorso dei passi che io trovo molto bello quando dice ogni lungo viaggio inizia con un primo passo un primo passo è dedicarci al nostro corpo in maniera diversa con amore puntando l'attenzione su risultati positivi e quindi proprio anche la fisicità che dal volta viene rifiutata da noi poi il secondo poi ci nascolto di noi stessi ecco anche questo è un altro tema fortissimo in bioetica cioè che investe due temi su cui noi lavoriamo molto il tema della vulnerabilità per cui noi siamo molto vulnerabili e quindi siamo molto fragili e dovremmo avere la consapevolezza di questa fragilità e questa fragilità ci dobbiamo convivere non dobbiamo odiarlo o condannarla e quindi ecco mantenere l'amore in questo senso no? puntando sugli aspetti positivi e poi soprattutto ecco questo porci in ascolto con noi stessi che è l'ascolto del corpo questo esige adesso tu mi risponderai esige un orecchio speciale noi lo dobbiamo ce l'abbiamo già forse lo abbiamo trascurato io credo che ad esempio i filosofi greci più antichi ci insegnavano molto bene queste cose se noi pensiamo agli studi alle grandi scuole filosofiche dell'antichità come ci insegna Pieradot e Picurei stoici erano facevano veri e propri esercizi spirituali ci insegnavano a trattare il nostro corpo non lo trascuravano assolutamente perché capivano che questo era il nostro essere e quindi erano molto sensibili e io trovo nelle tue parole che ci sia proprio un recupero di una sapienza originaria che noi poi abbiamo perduto quando Nietzsche parla dei filosofi spregiatori del corpo dice qualcosa di molto importante cioè che il corpo poi in filosofia nella modernità è stato trascurato non è stato inteso non è stato ascoltato quindi quello che tu dici secondo me è una grande importanza perché si occupa di filosofia e di bioetica allora grazie ancora a te la parola poi naturalmente ci sono i nostri amici che avranno molte cose da chiedere allora un primissimo esercizio molto molto semplice ma molto molto difficile quello tranquillamente dove siamo magari vi invito a concentrarvi sul respiro sul vostro respiro qui e ora in questo momento sull'aria che entra e sull'aria che entra inspiro ed espiro poi posso pensare alla fisicità dell'aria quando entra è più fresca e quando esce è più calda posso concentrarmi proprio sul movimento del petto che si alza e si abbassa però e questo è un percorso meditativo perché medito su me stessa e dopo un attimo la nostra attenzione se ne va allora con molta delicatezza ritorno sul mio respiro su ciò che sto facendo in questo momento perché io posso respirare qui e ora in questo momento non posso respirare né per il respiro che ho perso ieri né per il respiro che farò domani io posso respirare solo qui e ora posso vivere solo qui e ora e con questo piccolo semplice ma difficile esercizio io comincio a fare un cammino attraverso il corpo posso partire dalla testa o dai piedi non ha importanza allora dalla testa mi concentro e seguo magari associando al respiro le varie parti il volto il collo le braccia le avambraccia le mani il petto l'addome le cosce e quando io sto acquisendo questa mia consapevolezza del corpo riesco a coglierne anche i messaggi cioè dove mi fa male qual è l'energia che mi rimanda quale parte del mio corpo mi sta dicendo qualcosa di più perché noi abbiamo dei traumi che sono stati acquisiti durante la vita intrauterina e che ci riportiamo dietro noi li chiamiamo il trauma strisciante perché può rimanere strisciante per tutto l'arco della nostra vita ma può anche accadere un effetto un evento che è un effetto dirompente scatenante e che poi magari un incidente una violenza un qualsiasi evento che ci riporta immediatamente a galla un trauma che però vive nel nostro corpo è sepolto un po' come e questo poi ci fa arrivare a se non preso in tempo a un disturbo e poi può portare a una sofferenza che non è più sopportabile per quello che dicevo prima cioè prima della basaglia chi andava dallo psicologo era un matto da manicomio adesso tutto il nostro lavoro è sostanzialmente di prevenzione e qui i cinesi sono illuminanti perché dicono che quando il medico cura è perché ha fallito ed è vero perché noi dobbiamo prevenire sia i disturbi della mente sia quelli del corpo c'è poi un processo di invecchiamento che ci fa affievolire quello che sono i nostri cinque sensi io vedo molto spesso quando sono fuori in emergenza l'altra volta parlavamo dell'aquila del terremoto del freddo del ghiaccio del gelo la pelle di un bimbo o di un anziano quella che ci dà anche il tatto si assottiglia siamo di carta velina e lo vediamo soprattutto negli anziani con le piaghe da decubito io lo vedevo nei visi tagliati nelle labba screpolate è il freddo ma bambini e anziani siamo veramente fragili siamo definiti fragili perdiamo l'udito perdiamo la vista l'orientamento quante persone le trovo in giro col bigliettino col nome cognome indirizzo riportami a casa perché non sanno ritrovare la strada di casa l'equilibrio adesso c'è un bellissimo attrezzo che si trova da Declaton non lo chiamiamo la medusa ma è un disco di gomma che serve proprio per l'equilibrio è un esercizio fisico io ho cominciato a farlo e anche un minuto al giorno mi dà una sensazione di equilibrio che però è fondamentale quando io esco perché la paura di noi anziani è quella di cadere cadere dalle scale cadere per strada ci rimane come da bambini quando i bambini sono di gomma diciamo noi quando cadono si rialzano subito noi se cadiamo ci rompiamo perché la fragilità ossea è una conseguenza dell'invecchiamento parlavi prima del percorso del cammino attraverso il corpo oppure anche all'ascolto delle sensazioni del corpo piano piano è tutto un lavoro che viene fatto ma l'importante è focalizzarci su quelli che sono i rinforzi positivi cioè i piccoli successi giorno per giorno allora se io un giorno riesco a fare in salita cinque scalini e poi c'ho il fiatone va bene domani ne farò sei e poi torno giù e mi prendo l'ascensore dopo domani però io ne farò sette perché i muscoli delle mie gambe il mio respiro la mia attività cardiaca si rinforzano giorno dopo giorno e questo è importante per tutti a qualsiasi età sia dai bimbi che dall'anziano fragile non so se ho risposto Luisa moltissimo io adesso lascio naturalmente attendo le azioni e domande hai aperto un enorme scenario che noi vogliamo abitare io mi auguro che il festival sarà l'occasione naturalmente per riabitarlo allora allora chi vuole naturalmente penso che ciascuno di voi avrà delle domande mi veniva a me adesso Gabriella dato che è stato citato Basaglia tu che sei a Trieste scusa se ti ho coinvolto così ma mi è venuto spontaneo perché ho sempre paura di essere troppo prezzemolo e di parlare troppo per cui mi stavo trattenendo ma mi chiami in causa per cui intanto ringrazio Luisa che proprio oggi ho avuto una giornata terribile sentirla è stata veramente terapeutica anche per me anche per me per cui già la sua voce sentire la sua voce è terapeutica dolcissima infatti mi sono ricordata che avevo la mia tisana che me ne ero dimenticata sono andata a prendermela per cui grazie ma sì sollecitazioni tantissime direi anche una bella tirata di orecchi ci siamo presi no Luisa mi permette di darti del tu perché effettivamente badiamo almeno io ma vedo anche le persone che in qualche modo si mettono sempre in discussione sono sempre in trincea si occupano molto poco di loro io mi ci metto insomma e però questa cosa la paghi sicuramente la paghi sazia mentre parlavi mi sono venute in mente due cose completamente diverse le butto lì così per anche coinvolgere i nostri ingegneri e allora boh sì Basaglia sicuramente ha segnato uno spartiacque e indietro non si torna o perlomeno non si dovrebbe proprio mai più tornare perché ha ridato dignità ad ogni persona anche la più mostruosa se vuoi insomma e mi ricordo appunto io ho lavorato con lui per tutto il 1977 quando aprivamo il manicomio e c'era il réseau internazionale l'avevo già detto forse e dove si riavvicinavano le persone vuoi alla loro dignità di persona cioè lavarli non con le docce fredde ma facendogli le spugnature calde i massaggi e così via per cui rifacendo riprendere loro il rapporto con il loro corpo e quindi come riconoscevano perché si erano dimenticati di loro di come erano fatti così via e poi il rapporto con gli altri passo difficile ma anche quello se governato in un certo modo e con rispetto faceva ricreare delle persone non per questo poi non c'erano le crisi le ricadute e così via però sono i due passaggi fondamentali riconoscere di nuovo se stesso e avere diciamo l'energia a quel punto di relazionarsi con gli altri per cui fondamentale una cosa che i ritmi di lavoro intensissimi a cui siamo sottoposti ma io vedo anche i giovani sono sottoposti a dei sossi dannano in palestra un'ora e si ammazzano con attrezzi eccetera eccetera pochi invece come dire scelgono magari discipline rilassanti e così via questa è un'esperienza che io per cui sacrosanto quello che hai detto dopodiché mi è piaciuto moltissimo che tu hai trasmesso determinati concetti attraverso le poesie allora come sapete gli altri sanno sono presidente di una casa editrice femminista indipendente no ecco di cui la nostra editrice editoriale Gabriella Musetti che non per la nostra casa editrice ma per un'altra perché non approfittava della nostra casa editrice ha scritto un bellissimo libro che si chiama Un buon uso della vita bello che io vi suggerisco è l'editore se non sbaglio che è un editore nostro amico e lei racconta come sono morte tot donne lei fa e sviluppa dei versi poetici rispetto al momento della morte di un numero non mi ricordo quanto di donne è un libro straordinario è un libro straordinario che non ti intristisce cioè questo è lunga ecco e che però richiama tutta una serie di cose che sono state dette in maniera poetica mi viene da dire dalla Luisa terza cosa sono andata a prendere questo libretto che è stato divulgato a corde non e legge clone 2.0 è scritto da Vincenzo Dallamea che è un giornalista e sono delle poesie scritte dall'intelligenza artificiale e vi assicuro che alcune sono veramente intriganti chiaramente hanno fatto una scelta rispetto hanno dato degli input agli algoritmi il clone la mia rete le reti neurali e così via se mi permette mi permettete ho aperto sono dieci righe sulle reti neurali ecco una poesia che i sistemi hanno i sistemi di intelligenza artificiali hanno scritto le reti neurali hanno un'acustica che non riesce a cogliere il mondo l'universo è in continua mutazione tutto è diventato vecchio e tutto è diventato nuovo le reti ne parlano lentamente la nuova scena si concentra sulle superfici delle cose le idee entrano nei pixel più bassi del sistema solare i pixel più alti di questo sistema solare riflettono la luce di stelle lontanissime ecco era una provocazione fantastico penso che Enzo Baldini sia particolarmente interessato avendo inaugurato oggi questa mi avete io sono stupefatta devo dire non immaginavo tanto ecco resto quasi ammirata forse esagero ditemi voi siamo una bella banda dai diciamolo dovremmo seguire qualcosa sul tema bioetica e vedere che cosa questo chat riesce a esprimere poeticamente però la poesia e la bioetica stanno molto bene insieme io difendo strenuamente una bioetica poetica creativa ecco quindi che attinga dalle arti perché non se ne può più della bioetica accademica quello che mi viene ancora come così spunto è in questo momento quanto ciò che accade intorno a noi di brutto di bruttissimo condiziona il nostro la nostra esistenza minuto per minuto e secondo me siamo molto molto segnati anche se continuiamo a fare le nostre cose teniamo i nostri corsi eccetera ma io veramente ho questo male profondo dentro io sono un'ottimista a ultranza e anche nei momenti difficili come tutti quanti noi abbiamo passato comunque ho trovato dei motivi e così via per rialzarmi per guardare il mezzo bicchiere pieno per andare avanti per me i figli la famiglia veramente ho difficoltà in questo momento il mio corpo è stanco di sentire queste cose e di non avere più speranza comincio a non avere più speranza e questo è orribile no no questo non dobbiamo perdere assolutamente la speranza è vera è Luisa la speranza assolutamente l'ottimismo è cosa diversa dalla speranza sì ma diventa un atto razionale non è spontanea l'ottimismo c'è la visione scatologica e della speranza che guarda che guarda oltre l'ottimismo è confinato al presente insomma obiettivi più più limitati io faccio una grande distinzione tra le due cose la speranza è una virtù che noi dobbiamo mantenere nell'orrenda situazione e devo dire che anche il sentimento del dolore della pietà perché davanti a certe scene rischiamo di anestetizzarci e quindi questo è un rischio vero assolutamente il dolore ci deve essere la partecipazione l'empatia dobbiamo mantenerle no? cosa dice Luisa? credo che sì la aggiungiamo a fede fiducia speranza e caritas nel senso proprio di amore non di amore pensate quella meravigliosa quella fotografia della pietà che tutti abbiamo visto che esprime un dolore inimmaginabile indicibile allora Enzo scusa io ti avevo chiamato in causa i due Enzo naturalmente adesso sono chiamati in causa sono con noi chi vuole essere per primo io dicevo Enzo perché pensavo immediatamente alla sfida dell'intelligenza artificiale ma naturalmente prego volevo rispondere a Gabriella poi scusami scusami allora sei partita da Basaglia che è un mio grande amore perché io avrei voluto fare psicoterapia istituzionale poi il mio professore ha visto un po' più lungo e mi ha indirizzato nel campo dei fobici e degli attacchi di panico che effettivamente poi si è rivelata la mia strada però Basaglia è sempre rimasto nel mio cuore tant'è che tutta la parte di quelli che una volta erano i manicomi sono sempre stati molto seguiti da me al punto che anni e anni e anni fa mi capitò tra la pubblicità un piccolo libretto che era il buco della rete che è stato scritto da Gian Domenico Montinari psichiatra di Genova e racconta tutta l'esperienza di quarto da quel libretto io dico che ci sono sempre dei fili della nostra vita che vengono tessuti a nostra inconsapevole storia è stata la mia discesa da Milano a Genova perché incontrandomi con Gian Domenico Montinari poi è iniziato tutto il mio percorso genovese e mi sono poi trasferito ma sono trent'anni che abito a Rapallo quindi da un piccolo libro questo è stato un percorso di vita e dicevi prima che noi siamo sempre sulle barricate è vero però se questo stress lo fai per un breve periodo di tempo tu lo smaltisci è la gestione dello stress quando noi siamo in emergenza su un contesto drammatico io facevo l'altra volta l'esempio di Ponte Morandi o di un terremoto o di un'alluvione non hai tempo né per te né per te vai vai noi la chiamiamo la golden hour o la golden day perché tu stai anche 24 ore in piedi ti nutri quando puoi però è un periodo limitato di tempo se tu sei allenato ed è un allenamento quotidiano che tu fai perché un po' come i vigili del fuoco loro si allenano tutti i giorni e lo stesso anche per noi psicologi dell'emergenza ti alleni tutti i giorni sul tuo corpo sulle reazioni del tuo corpo perché se tu sei attenta a quello che il tuo corpo ti segnala sviluppi anche una sensibilità e una affinità che ti permette di capire che cosa sta vivendo l'altro e molto spesso non riescono a parlare se sono traumatizzati soprattutto se hai un bambino un anziamo o un handicappato o una persona che ha dei disturbi mentali cioè quando succede un patatrac hai di tutto e tu devi essere in grado di a me è capitato qua a rapallo purtroppo di una persona che è morta in spiaggia e dovevamo avvisare la moglie che era a casa mi chiamano dalla capitaneria di porto se posso andare in supporto e vado solo che non si erano accorti che la moglie aveva una demenza simile sembrava al primo momento disorientata ma non era disorientata perché l'era morto il marito era proprio disorientata per una patologia quindi c'è stato tutto un percorso cioè è successo le otto di sera io sono venuta a casa a luna di notte per non lasciarla sola poi siamo riusciti a portarla in ospedale perché era completamente sola poi siamo riusciti a rintracciare una cugina che stava a Milano ma questa mi dice io a luna di notte non dico non si preoccupi adesso la ricoveriamo in ospedale anche lì il 118 ci è venuto incontro l'hanno tenuta in ospedale e poi il mattino dopo vabbè siamo ritornati e tutto il resto la fragilità mi riporta al mito di Chirone che è il medico ferito allora anche noi subiamo noi siamo definiti vittime del terzo tipo noi abbiamo classificando sei tipi di vittime uno è proprio la vittima poi ci sono i familiari ci siamo noi c'è la comunità c'è anche chi assiste all'evento e ne rimane vittima quindi hai tutta una serie di strategie che metti in atto per far fronte a un evento che non è normale nella tua vita cioè un alluvione un terremoto un incidente anche d'auto non è la quotidianità ma se tu impari ad avere cura con amore con caritas ritorniamo alle virtù nei tuoi confronti cioè io mi prendo il mio tempo tu dici non ho tempo ok quando vai in bagno e sei seduta sul water ti fai rilassamento bastano 5 minuti e tu ti ricarichi perché il corpo è una macchina energetica sia nella psiche che nel corpo perché siamo psicosomatici quindi basta proprio poco 5 minuti sono sufficienti è importantissimo vi dicevo prima i due campanelli d'allarme se io comincio ad avere un disturbo del sonno o un disturbo alimentare altro che campanello è una campana una volta suonavano a martello no perché è successo qualcosa è successo qualcosa a me nella mia psiche e quindi si riflette nel corpo noi anziani abbiamo dei ritmi del sonno che si modificano però comunque se uno la mattina si sveglia stanco vuol dire che qualcosa non funziona che io posso dormire meno cioè un bambino dorme tantissime ore rispetto a noi noi anziani ormai siamo tutti over 60 no Cristo perdonami perdonami però la quantità del sonno diminuisce ma la qualità deve essere sempre quella a parte determinati momenti perché ciascuno di noi può avere una problematica io sabato mattina ho avuto due lutti praticamente nello stesso momento due persone a mecare che se ne sono andate ok poi devi parlare devi dire devi fare ma intanto dentro di te hai la tempesta famosa che distrugge i fiori ma seme seme dentro allora se io riesco a farmi zolla cioè ad accogliere che la terra che cosa fa accoglie accetta allora il seme se ne sta lì fiore pazienza ce ne sono tanti ma torniamo anche a un discorso religioso se vogliamo però è un insegnamento fondamentale se il seme non muore non porta frutto cioè se il seme rimane seme non succede niente il seme deve germogliare cioè deve morire come seme per nascere come fiore o filo d'erba o albero o qualsiasi altra cosa così ciascuno di noi la parte di ieri è morta e la parte di domani non è ancora viva cioè io posso vivere solo adesso la consapevolezza del respiro è il primo passo perché quando tu sei di fronte a una persona che ha un attacco di panico questa non capisce più niente ha delle reazioni inconsulte che si butta contro un muro credendo di avere davanti una porta per uscire ma è talmente irrazionale questa paura che è reale che poi non è una paura nel vero senso della parola perché la paura è un'emozione intensa fondamentale di fronte a un qualcosa di reale cioè se io adesso scendo in strada e mi trovo un leone inferocito cavoli se ho paura però ho il leone davanti ma se io ho una paura inconscia dentro di me tipo una persona che ha paura ad andare in strada che ha paura ad attraversare una piazza non per la piazza in sé ma perché ha paura di non essere soccorso e quindi di morire quindi è una paura che non è realmente è un'angoscia e ti fa scatenare anche un attacco di panico allora tu che cosa fai? agisci in un modo molto molto semplice gli fai respirare l'anidride carbonica del suo respiro e quando succede puoi dire anche prenditi un fazzoleco mettilo davanti l'importante è che respiri perché si abbassa immediatamente l'adrenalina e poi piano piano lo tranquillizzi dicevi prima non sono segnato un buon uso della vita la vita quella con la V maiuscola è fondamentale perché differenza tra esistere e vivere che non voglio entrare nel campo della Luisella perché potrebbe stare per ore tra l'esistenza e il vivere la vita non dimentichiamoci che oltre alle tre virtù teologali fede fiducia speranza e carità ci sono anche le cardinali la fortezza è proprio quella che ci dà la forza di volontà per dire ok ho capito ho un problema e vado avanti e se non ce la faccio da solo mi faccio aiutare perché ritorniamo al neonato il neonato se lo lasci da solo muore perché ha bisogno della relazione oltre che del cibo materiale ha bisogno della relazione e non voglio tornare a tutti gli esperimenti che hanno fatto con gli scimmiotti con il biberon non biberon il peluche il peluche però ci insegnano quanto è fondamentale l'abbraccio ci dà proprio l'esistenza e la vita la vita affettiva la vita emotiva la vita emozionale e lo vediamo anche col gatto col cane di casa ci si addormenta col ron ron del gatto sul cuscino chi ha il gatto ne sa qualcosa lo stesso col cane l'accarezzare il cane con la pet therapy che cosa non si fa con questi esserini io Trieste la amo profondamente è una città magica per me ci sono venuta tante volte e ho ancora degli amici abbastanza che frequento diciamo per i gatti sono venuta anche per l'esposizione feline ho ancora degli amici a Monfalcone e a Venezia quindi quando ti sentivo parlare l'altra volta ho detto che bello sentire questa cadenza triestina di Monfalcone di queste zone di grado eccetera non so se ti ho risposto casomai sì come no mi si sgamma subito purtroppo ho cercato anche di fare dei corsi ma poi ci ricado concentrati proprio solo sul respiro quello sì proprio la consapevolezza di quello che uno fa anche lavando i piatti se lo faccio con spirito meditativo c'è una meditazione chiaro grazie grazie Enzo 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 i due Enzo li aspettiamo sono tali e tante le riflessioni che abbiamo grazie veramente Luisa hai fatto un'altra un'altra lezione sì Enzo Baldini ma quasi la mia ossessione è del momento l'affettività adolescenziale i giovani questo che appare un enorme problema in crescita se ne ha riscontro ne hai riscontro ma quel che più importa veramente sono non dico così fragili ma veramente si creano si stanno creando tra di loro nei loro rapporti delle barriere così solide e così problematiche e così pericolose per lo stare insieme per il vivere una vita con altri e soprattutto una vita problematica e non di certezze quesiti infiniti mi taccio io mi occupo dei genitori l'affettività adolescenziale si sta perdendo purtroppo prima di tutto perché non sanno più giocare sono attaccati ai videogames se gli parli di giocare a prendersi a nascondino è come se venissero giù dalla luna ma quando io parlo con i genitori che vengono da me perché hanno un figlio tra virgolette delinquente le baby gang abbiamo visto ancora ieri che cosa non è successo mi ricordo una volta che nel Savonese c'erano un gruppo di ragazzi in piazza che giocavano a pallone solo che il pallone era un gatto ecco adesso stiamo arrivando proprio a quei livelli veramente poi c'è anche la parte diciamo dall'altra parte vedi Beccaria che cosa non stanno scoprendo quindi sono le due facce di una stessa medaglia lavorando con le figure genitoriali ormai non si parla più di padre e di madre ma di figure genitoriali ti accorgi che dietro c'è il vuoto allora quando tu sei nel vuoto noi siamo abituati a stare con i piedi per terra con la forza di gravità ma quando sei nel vuoto hai paura hai paura di cadere e poi hai questo senso di vuoto interiore che è ancora più terribile del vuoto fisico prima parlavo dei segnali che mandano che manda il nostro corpo anche proprio il nostro gesticolare con le mani il modo di abbracciarci il modo di stare vicini questi ragazzi non lo sanno com'è ma perché non lo sanno i loro genitori se tu vedi addirittura hai ragazzini delle medie io anni fa avevo ottenuto degli incontri di educazione sessuale ai ragazzini di terza media quello che mi hanno scritto nelle domande diciamo anonime mi ha lasciato esterrefatta ma proprio ai nostri tempi si parlava di educazione sessuale e ci veniva comunque insegnato qualcosa adesso tu hai ragazzini che hanno rapporti sessuali con tutti i rischi affettivi parte quelli di eventuali patologie trasmissibili sessualmente che lasciamo perdere ma dal punto di vista affettivo che cosa è diventato una relazione d'amore niente è uno sfogo fisico che rasenta la violenza perché quando tu non sei consapevole del tuo corpo e di quello che prova il tuo corpo non sei neanche consapevole di quello che prova l'altro poi qui c'è anche la differenza tra maschio e femmina tornando ai genitori è una drammaticità che si vive e che io vivo quando mi relaziono con loro perché trovi proprio oltre a una barriera a un muro di gomma ma io che cosa faccio comincia a vedere il tuo benessere che non è egoismo non è egoismo perché ritornando a quello che diceva Gabriella prima se io non mi nutro se io non dormo se io non mi rilasso poi vado in tilt se non riesco a darmi un alt poi non riesco più neanche aiutare nel soccorso tu hai una regola fondamentale che è autoprotezione e scena sicura se no ti fermi non intervieni e a maggior ragione se io sono in un rapporto psicoterapeutico allora io prima ti dicevo non mi occupo di adolescenti perché mi sono sempre occupata di adulti oppure bambini ma seguo i genitori perché un bambino che ha un problema il problema non è quasi mai suo ma dipende dai genitori allora si interviene a livello si collabora sia in team perché c'è chi segue il bambino e chi segue i genitori e addirittura si può arrivare anche al contesto più allargato nonni parenti eccetera io lo dico sempre sono stata allevata e viziata dai miei nonni quindi le figure dei nonni sono genitori due volte ma hanno già un'esperienza in più e quindi diventano tuoi alleati per aiutare i genitori per aiutare i minori chiamiamoli così minori ed è adesso purtroppo stiamo andando su un mondo senza pace ma non solo per le tante guerre che ci sono perché non è solo Israele non è solo l'Ucraina mi pare che ci siano più di 50 conflitti a livello mondiale sono proprio le guerre che ci facciamo a livello di condominio a livello di classe a livello cioè io mi ricordo che andavo in strada che andavo ai giardini a giocare sì c'era qualche discussione ma sì è normale mi hai portato via la palla ma no tocca a meto le biglie mi hai fregato una biglia cioè poi tutto si risolveva lì se io arrivavo a casa con una nota sul diario ma io le prendevo da mia mamma dai nonni ma ti sei preso una nota adesso c'è il genitore che va a scuola a pestare i professori cioè c'è qualcosa che non funziona scusatemi mi hai fatto venire in mente il libro di Matteo Lancini Sì te stesso a modo mio riprendo il titolo Essere adolescenti nell'epoca della fragilità adulta che il titolo già dice molte cose e comunque è ripreso abbondantemente ne parlavo nel mio intervento proprio di un testo del genere grazie intanto ringrazio Luisa come al solito che fa delle cose ma mi direi un po' tutti quelli che si sentono comunque effettivamente molte cose molti suggerimenti che dà in qualche modo sono importanti e mi accorgo che personalmente visto che ha citato Charlie Brown io magari metto sì dove dovrei mettere no e viceversa no? sbaglio tutte le colonne pensando certe cose in particolare direi per quello che riguarda riguarda il non fermarsi continuare sempre a operare quindi non sapersi gestire gestire le proprie forze quindi questa è una cosa molto complicata come domanda volevo chiedere cosa ne pensi di tutte le problematiche del gender che ci sono adesso per i ragazzi non riescono a capire di che sesso sono o così via insomma grazie grazie a te anche di questo non mi occupo quindi no nel senso che ormai tutti ci si specializza in un settore ho molti amici che hanno trovato una loro strada che è diversa dalla vita di coppia tradizionalmente intesa che però sanno essere genitori comunque e portare una relazione affettiva equilibrata anche per i propri figli questo sia per la coppia uomo-uomo che donna-donna più problematiche sono le coppie donna-donna che ho conosciuto a differenza degli uomini e comunque abbastanza spesso i figli hanno qualche problema ma proprio qualche problema anche dovuto a certe scelte credo io partitiche non politiche partitiche ad esempio del riconoscimento della doppia genitorialità chi ha iscritto chi non ha iscritto chi ha fatto chi è padre 1 madre 2 genitore 1 genitore 2 cioè sono tutte confusioni che non fanno altro che generare ulteriore confusione in delle menti che sono comunque fragili proprio solo per il fatto che sono minori come noi siamo fragili oltre una certa età perché comunque l'invecchiamento ti porta a essere definito fragile lo stesso è per i minori pensiamo all'embrione un danno che viene fatto a un embrione è grandissimo rispetto a un danno che viene fatto a un neonato o che viene fatto a un bambino o ad un adolescente o a un adulto pensiamo anche solo alle strumentazioni mediche che abbiamo a disposizione anche non so all'apparecchietto per misurare la pressione è diverso per i neonati che per noi il pulsiosimetro è diverso per gli infanti e per noi questo ci riporta sempre al discorso di inserirci in una relazione allora quando una relazione genitoriale è con i relativi scossoni perché li abbiamo tutti ma è equilibrata e soprattutto relazionale cioè se io ho un disagio te lo dico ne parliamo e vediamo di venirci in conto perché ciascuno di noi ha il proprio carattere ha la propria storia personale chi è sensibile a una cosa e chi è sensibile a un altro ma se io non conosco i punti di stress o di debolezza dell'altro e soprattutto non conosco i punti di forza non si va da nessuna parte proprio perché siamo in un contesto relazionale sia nel piccolo della famiglia sia nella comunità in cui vivo sia nella comunità più grande la nazione allora anche tutte queste difficoltà che ci sono proprio a livello partitico perché se parliamo di polis di politica abbiamo il benessere della polis che è tutta un'altra cosa quando vedi dei partiti che non mi interessa il colore che comunque si scontrano su delle banalità che basta sedersi a un tavolo e dire ok cosa facciamo ciascuno vuole sempre aver ragione e lo stesso nella famiglia o nella relazione di coppia ciascuno vuole sempre avere ragione ma se se entriamo nel campo della consapevolezza allora so anche che la mia libertà finisce dove comincia la tua io porto sempre l'esempio della bolla noi siamo in una bolla una bolla d'aria che ci protegge che ci si isola ma ci dà anche la barriera cioè l'altro può arrivare fino a un certo punto e allora una cosa molto semplice se io sono in ambulanza posso dire prendo la mano oppure posso prenderle la mano è la stessa cosa però c'è una modalità relazionale differente cioè è l'altro che mi dice entra nella mia bolla e prendimi la mano posso prenderle la pressione perché io per prendere la pressione devo scoprire il braccio devo comunque toccare il braccio devo fare devo mettere il fonendo cioè ed è entrare in relazione col corpo dell'altro ma se io ho difficoltà col mio relazionarmi col mio corpo ho difficoltà anche relazionarmi con l'altro soprattutto quando ho un'identità di genere che è messa in discussione dalla società e allora quanti ragazzi adolescenti o comunque nella giovinezza hanno timore a parlarne con i genitori perché hanno paura di essere cacciati di casa o di non essere più accettati per quello che sono con le loro tendenze cioè una volta era nel DSM ancora terzo era credo terzo sì il manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali era classificato come malattia se andiamo ai tempi del del 40 45 sappiamo da parte di Itel che fine facevano tutte queste persone quindi è l'arco di una nostra vita quindi come si è evoluto questo anche questo concetto va inserito in una società attuale non so se ti ho risposto grazie mille grazie Luisa grazie anche da parte mia tra l'altro è un tema bioetico questo della disforia sessuale che ci sta occupando come Comitato Nazionale di Bioetica e c'è uno scontro non da poco tra sostenitori di diverse opzioni e tu hai detto delle parole molto sagge e noi dovremmo veramente molto riflettere su come potremmo aiutare questi adolescenti che sono in cerca di sé e che quindi la medicalizzazione della risposta come molto spesso viene proposta ecco non sembra quella più appropriata perché come tu mi insegni i ragazzi dagli otto anni in su vivono in una situazione immagino di grande confusione in cui la ricerca della propria identità sia in itinere e quindi difficile poi poter dare una risposta in termini positivi a questa domanda e quindi ho l'impressione che la risposta di tipo medico che blocca ad esempio questo processo della povertà ecco non so tu cosa ne pensi ma sia una risposta così molto molto limitata molto ma questo adesso non ti voglio impegnare ma sia una una risposta mi fa molto piacere con la tua opinione naturalmente te ne sarei grato e anche i genitori entrano un pochino in gioco in questo eh nel prendere posizioni e nel è un problema che ho seguito ultimamente anche per tutto il clamore che è stato cariggi dato ecco è un qualcosa che secondo me deve essere affrontato come dicevo prima sì a livello psicologico ma soprattutto ci vogliono delle normative o comunque degli orientamenti eh che vanno al di là del singolo perché altrimenti ciascuno eh agisce cioè come i giudici di Cassazione che mettono una loro sentenza che poi eh occorre mettersi eh e questo il comitato di bioetica può fare tantissimo proprio mettersi a un tavolo e coinvolgere le forze politiche per dare un indirizzo ehm se vuoi un parallelo è con tutta la normativa della pet therapy hai cominciato tu con l'università di Genova nel 2006 se non ricordo male sì sì e poi anche con con Manti con le prime proposte di legge eccetera per arrivare a una normativa nel 2015 però se non si comincia si va sempre così si naviga a vista ma non sempre è opportuno navigare a vista ci vogliono anche delle carte nautiche ci vogliono anche una segna ci vuole anche una segnaletica che va rispettata eh come nel codice della strada come nel codice nautico delle indicazioni ci devono essere perché altrimenti è un marasma ma soprattutto e ritornando al discorso che faceva prima Enzo Baldini ehm questi ragazzi che fine fanno eh io ricordo un libro credo degli anni 78 79 di Marco Marchesan ragazzi difficili possiamo intervenire in tempo Marco Marchesan è stato uno dei padri della psicologia della scrittura a Milano e a aveva anche a Trieste e a Venezia eh sante Alessandro Bidoli eh che si occupava di di psicologia della scrittura e ci sono dei segnali d'allarme eh proprio nella scrittura dei bambini o nello scarabocchio eh scuola materna fanno gli scarabocchi però già da quello tu puoi avere dei segnali d'allarme c'è un parallelo tra psiche e soma e parte affettiva allora se eh io riesco e torno sempre al discorso mh nostro cioè se io tengo presente autoprotezione e scena sicura mi prendo cura di me stesso che non è egoismo mi raccomando eh allora io posso aiutare anche gli altri e questo vale per tutte le figure tra virgolette genitoriali perché anch'io in terapia sono una figura genitoriale mh l'insegnante è una figura genitoriale perché sono coloro che insegnano cioè danno e lasciano un segno che è molto diverso dall'istruzione cioè l'istruzione me la posso sempre fare in qualsiasi momento l'educazione no perché proprio dal latino da educere cioè io tiro fuori e ritorniamo al mio amore che è Socrate conosci te stesso conosci te stesso allora io io non so adesso aspetta che mi come al solito mi tocca sempre il compito più più arduo quello del tempo e mi rivolgo a Chris il nostro amico Chris che per dire se abbiamo già esaurito il tempo scusa Luisa magari sì oh Pinuccia ho sentito infatti che oggi è il compleanno di mio figlio per cui ero un po' sei perdonata auguri 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 cara e allora e allora ci fai il piacere della tua presenza hai sentito qualcosa ho sentito una parte diciamo ho sentito volevo chiedere solo una cosa però non so se nella prima parte che invece ho perso non vorrei che ne avesse parlato per cui chiedo Venia se appunto ne avete parlato ma proprio l'altra sera presentavamo il volume nostro su Sentinele dell'Aria erano presenti alcuni giovani ingegneri che erano venuti molto interessati e che a un certo punto ci hanno un po' diciamo stimolato proprio sulla sull'intelligenza artificiale e e anche però sulla sostanziale problema della perdita loro dicevano il rischio che noi vediamo e condividevano però tanto dell'intelligenza artificiale il rischio è che si perda il rapporto con noi stessi perché nel momento in cui noi diciamo mettiamo dei contenuti in questo ad esempio vabbè loro facevano l'esempio di chat di GPT mettiamo dei contenuti dentro poi autonomamente questo sistema rielabora e ricostruisce proprio a partire dai contenuti che noi dicevano loro abbiamo messo dentro un modo loro quindi un loro modo di sentire una sensibilità e quindi questo loro lo vedevano come un elemento da un lato straordinario quindi incredibile perché io metto dentro tutto poi dico fatemi una sintesi di tutto quello che vi ho messo dentro di mio e ne viene fuori questo dall'altro erano preoccupati proprio della questione della perdita del rapporto con noi stessi insomma quindi con la propria identità con la propria sensibilità e a me questo e c'era anche Maria Rosa ci era apparso come un tema affascinante che non so se sia proprio strettamente legato però insomma sentendo alcune riflessioni appunto di lui mi sembrava un tema importante insomma non so se mi sono spiegata benissimo benissimo quindi volevo porre questo tema che è molto complesso è molto complesso perché alla fine noi fossimo spersonalizzati non solo il nostro corpo non esistiamo più in sostanza perché qualcuno che non sappiamo cosa che cosa sia forse Gabriella Taddeo lo sa lei ma non lo so ricostruisce diciamo la nostra identità insomma la nostra sensibilità niente scusate mi sono intromessa perché trovavo un interessante questo bravissimo intervento bellissimo grazie peccato che tu non hai sentito Enzo Baldini perché ci ha letto una poesia meravigliosa proprio che è stata ricavata nel modo che tu hai evidenziato dedicata alla moglie devo dire era bellissima è una sfida è interessante però quello che dice è meraviglioso allora Luisa rispondi rispondi cara è molto difficile rispondere perché soprattutto diciamo dalla emergenza covid la nostra vita è stata molto molto stravolta e sempre più la generazione Z sta attaccata al computer e al telefonino cioè io dico somaticamente credo che andremo a perdere quattro delle nostre dita con l'evoluzione corporea e ci rimarranno solo i pollici non per noi ma per le generazioni future l'intelligenza artificiale io ho mandato come ultima slide quella dell'IIT dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova con Robottino perché mi hanno presa come cavia per fare degli esperimenti con Robottino per vedere le mie reazioni alle sue reazioni cioè si spostavano gli occhi si illuminava la bocca eccetera e questo è il nostro futuro saremo sempre più robotizzati anche le nostre conferenze sono online anziché essere in istituto in presenza però è anche uno strumento che ci permette di raggiungere persone nel vasto mondo dell'etere sta nel trovare il giusto equilibrio allora in tutti i telefonini in tutte le tv c'è il parental control attiviamolo io vedevo con i miei nipotini è inserito il timer e a un certo punto ok giochi scatta il timer basta non usi più il telefonino per giocare se viene non dico imposto ma nella relazione genitori figli viene fatto capire che tu hai un tempo a disposizione che sono 24 ore al giorno e in questo arco di tempo hai bisogno di accudire il tuo corpo mangiando bevendo dormendo e riposando e scaricando lo stress perché lo stress ricordiamoci che è una funzione vitale infatti si parla di eustress ma quando diventa troppo è distress e se non sappiamo gestirlo abbiamo poi dei disturbi psicosomatici che se non sono presi in tempo ci portano poi a delle patologie allora per rispondere a pinuccia è importante come dicevo prima stabilire dei confini dei confini che sono intrapersonali cioè io mi abituo a limitarmi interpersonali e parliamo della nostra bolla e sono interrelazionali e vediamo tutte le gang le baby gang eccetera ma ritorniamo al discorso della educazione allora se io ho dei genitori che sono in difficoltà e gli diamo addosso anziché aiutarli otteniamo l'effetto opposto io mi ricordo un caso che volevano togliere la patria potestà a una mamma perché aveva due bambini piccoli e uno che andava all'elementare e lei alla mattina aveva difficoltà a dar da mangiare a tutti vestirli insomma a un certo punto sono intervenuta e ho detto scusate ma di che cosa ha bisogno sta donna una che vada lì ad aiutarla a vestire i bambini e portarli a scuola ok portarli a scuola pedibus c'è un genitore che acchiappa i suoi figli e li porta a scuola risolto hai bisogno per i più piccoli di darle il biberon ok c'è la vicina di casa c'è l'amica vieni e l'aiuti a darle il biberon finché quello è un po' più autonome cioè cose semplicissime ma se non risolte subito portano poi a provvedimenti giudiziali con delle conseguenze inenarrabili e imprevedibili perché non sappiamo poi nei bimbi e nella mamma che cosa si va a sviluppare scusa una riflessione che mi viene da fare è proprio che sono state distrutte le comunità cioè tu parlavi prima delle famiglie come abbiamo vissuto noi nella corte nel giardino di casa eccetera ma è proprio tutto tutto è un c'è la distruzione di giardini il taglio di alberi che abbiamo l'habitat che viene veramente depredato continuamente con ogni scusa con ogni scusa cioè fa sì che tu non abbia la comunità io sono diventata amica mentre facevo il giro col mio primo genito con la carrozzina incontravo due amiche ci fermavamo nel bar qui di fronte con le tre carrozzine e ci frequentiamo ancora oggi i nostri figli si sposano e così via la comunità non c'è più anzi c'è la vergogna di chiedere aiuto non devi chiedere aiuto e ti rivolgi a delle istituzioni che cosa ti fanno ti chiudono i consultori e ti danno l'asilo dall'altra parte della città cioè è fatto tutto per stare male cioè per stare male questo è non c'è una politica del benessere i determinanti della salute non se li guarda nessuno e sono lì ben chiari le malattie sono per un decimo questioni fisiologiche no la città di comunità è un punto fondamentale sono d'accordo assolutamente eh sì quello che noi invece manteniamo nei piccoli paesi perché noi che viviamo nei piccoli paesi invece abbiamo ancora diciamo un po' di comunità perché comunque siamo in pochi ci incontriamo magari facciamo anche la festa del paese insieme e che invece nelle grandi città non esiste più non esiste questo è gravissimo secondo me è vero è vero grazie qui in Liguria per esempio c'è un bellissimo progetto che si sta portando avanti ormai da qualche anno che è il maggiordomo di quartiere allora c'è questa persona che soprattutto vabbè questo è rivolto agli anziani se io per qualsiasi problematica non posso uscire di casa chiamo il maggiordomo e gli dico mi vai in farmacia mi vai a comprare il giornale mi prendi la posta e questa persona che è a livello di quartiere o comunque di buon vicinato eccetera va e fa queste commissioni e soprattutto per una anche o una mamma o un anziano è fondamentale perché allora buon vicinato io guardo tutte le mattine e sera mia vicina di fronte ha tirato sulla tapparella e lei fa lo stesso con me tranne la domenica perché sa che dormo un po' di più però cioè ci si guarda semplicemente e questo è un inizio di buona relazione di buon vicinato perché poi basterebbe veramente poco per iniziare a smaltire le guerre i conflitti che poi portano alle battaglie che poi portano alle guerre ma se non cominciamo noi scusa no no perché l'idea del maggior domo di quartiere è straordinaria ma che io sappia è ancora un'idea o tu le ve le è già attivo da quattro anni è un progetto regionale ma è stato dalla regione Liguria ah quindi anche nella nostra città noi usufruiamo potremmo usufruire di questo sì ma guarda questo ti assicuro Enzo ne sapevi qualcosa sì e so anche almeno mi pare di aver letto che ultimamente non ha avuto il successo sperato ma invece bisogna sostenerlo allora proprio l'istituto italiano di bioetica farà una campagna abbiamo sempre io pensavo ancora ad un progetto che mi sembrava anche troppo bello per essere vero e se voi invece mi date questa questa bella notizia e allora ma c'è la cosa drammatica nel fatto che la comunità ahimè ormai è la comunità online che non è quella che stiamo facendo noi ed è ormai la comunità online gestita da algoritmi e soprattutto per anziani sta arrivando anche da noi in altri paesi Stati Uniti in premis questo percorso di aiuto nei confronti di anziani viene fornito con delle strutture che lì conoscono meglio di quanti di quanto questi conoscono se stessi ma attenti non voglio aprire qui un un discorso che sarebbe infinito un ancora una nota conclusiva in risposta anche alla alla al quesito sulle intelligenze artificiali o alle poesie che abbiamo ascoltato sono note coinvolgenti ci toccano nel profondo ma proprio per questo sono pericolosissime in quanto gli algoritmi che ne sono alla base non sanno non hanno consapevolezza di quello che fanno delle emotività che sprigionano sono solo dati numerici e statistici e probabilistici e questo ahimè è il dramma che abbiamo non ti sento più Luisella devo no per spezzare una lancia perché io credo che non dobbiamo avere questo timore così mi sembra un po' eccessivo io la vivo come una sfida e devo dire che la poesia che tu hai letto era molto gradevole questa a noi giudicarla è stata prodotta magnifico ci piacerà o non ci piacerà sappiamo che è stata prodotta artificialmente ma o no scusa no no la mia riflessione mi crea dei turbamenti particolari o mi piace o non mi piace la valuto è la mia emotività poi che entra in gioco il mio giudizio o no certo non ve ombra di dubbio allora adesso faccio un salto qualitativo enorme e quantitativo enorme propaganda politica divisione in schieramenti artefatti chiusi che non dialogano e dove ognuno trova una forme di riferimento referenze auto referenze che si consolidano verità assenza di dialogo ecco la mia preoccupazione questo è altre cose certo questo è su questo ti do questo proiettato nell'ambito adolescenziale è drammato certo io come mi sembra che la cosa stia diventando sempre più bella ricca e appassionante questa nostra conversazione e allora grazie anche all'online io condivido le perplessità di Luisa però devo dire che lo benedico da tanti punti di vista perché l'idea di poter parlare con Gabriella che è a Trieste che sarebbe mi dà già molta gioia e con Pinuccia che non è qui insomma mi sembra che che qualche che qualche cosa di buono ecco questo ce lo dia e grazie allora io ho scritto un'ultima poesia per rispondere a Enzo ah sentiamo sentiamo me l'ho scritta nella ciazza allora dai io sono il clone e scrivo queste cose che ho dentro perché le mettiamo noi dentro per cui lui ce le ha dentro che non posso capire e che mi devono piacere è simpaticissima ma io trovo divertente tutto questo cioè se noi lo doperiamo in questo modo che anche è un modo tutto sommato ma noi abbiamo lo spirito critico ecco ecco esatto noi abbiamo lo spirito critico è creatività e spirito critico ci aiuteranno va bene quindi a gestire questo strano mondo comunque veramente un'età più importante quella di Luisa oggi ci ha dato delle straordinarie emozioni e credo che veramente mi dispiace che purtroppo le presenze erano poche ma al festival queste cose si diranno avremo meno tempo vedete io insisto molto per il pre-festival perché è veramente il momento in cui noi abbiamo più tempo per parlare per dialogare il festival è necessariamente qualche cosa ahimè che ti costringe invece alla sintesi alla brevità purtroppo così le presenze sono poco numerose io ne speravo di più però la qualità direi che la qualità delle presenze scusa Luisa ma c'è anche c'è la registrazione esatto c'è la registrazione sì però sai cos'è che io trovo che sia anche molto bello l'interazione come si diceva sono le relazioni le domande che ti vengono spontanee e questo purtroppo con la registrazione lo perdi ma comunque insomma noi non ce lamentiamo Chris io lo volevo ringraziare a nome di tutti naturalmente grazie e annunciamo la prossima in modo che tutti sappiano e si ricordino che è il 30 aprile alle ore 17.30 Ugo Bardi chimico autore del trettesimo rapporto Club di Roma del trettesimo intelligenza artificiale e mobilità sostenibile ed elettrica non mancheremo un ottimo appuntamento organizzato dall'Ecoistituto e quindi al prossimo incontro diciamo Grazie.